Per tanti mesi in molti hanno preferito non scaricarla, chi per paura della violazione della privacy, chi perché convinto che il covid fosse ormai in regressione. Ma ora che la situazione sta cambiando con un aumento di contagi, migliaia di utenti hanno deciso di tutelarsi con Immuni, l'applicazione che ha lo scopo di tracciare i contagi in Italia e far sapere se si è stati a contatto con persone positive al virus. L'ho scaricata anche perché voglio dire è un servizio che ci danno in più per poter tutelarci, quindi... Lei è d'accordo la scaricata? No, io no perché non ho avuto altri problemi, però lo farò sicuramente perché è una cosa positiva, insomma, ecco, tutto qua. E' utile, per me sì, per me sì perché c'è in giro gente ancora un po' strana e quindi... Sono favorevole ma non l'ho scaricata. Lo farà? Lo farò, perché secondo me è da fare. Negli ultimi giorni è stato registrato un boom di download, anche se a Fano pare che in tanti non ce l'abbiano ancora. Ad oggi sono oltre 7 milioni gli italiani che l'hanno scaricata, il 14,7% nelle marche. Del totale soltanto circa 300 sono le persone positive al covid, più di 5.000 invece le notifiche inviate dall'app. Allora, io ancora non l'ho scaricata ma avrò intenzione, insomma, prossimamente questi giorni appunto di scaricarla. Non vi preoccupa un po' il fatto di ricevere un messaggino sul telefono che siete stati a contatto con positivi? No, no, anzi, non venga nel senso che ci tutela la nostra salute. Lucia non è che sono il massimo, ecco perché forse sono indeciso e magari approfondirò con calma, veramente, non saprei proprio. C'è chi dice che sei sotto controllo, sinceramente non lo so, sono incerto in questa cosa. Quindi al momento non la scarica? Attualmente no, dopo si vedrà. Però ecco, l'importante è con le mascherine girare tranquillamente. Io non l'ho scaricata, l'ho scaricata una volta e poi in effetti ho capito che non era anche io e l'ho cancellata. Che non mi interessava, non era, cioè non la ritenevo interessante più che altro, ma può darsi come sbagliavo. No, non l'ho scaricata nemmeno io. Secondo me è arrivata troppo, troppo tardi. Fosse arrivata appena finito il lockdown l'avrei sicuramente scaricata. L'applicazione, come dicono gli esperti, può aiutare a frenare nuovi focolai. Ma vediamo come funziona. È possibile scaricarla in modo gratuito e su base volontaria su App Store per i dispositivi iOS e Play Store per gli Android. Con l'avvio di Muni vengono mostrate alcune schermate introduttive su funzionamento e privacy. Poi, dopo l'inserimento della regione di residenza e della provincia, richiede di abilitare le notifiche che vengono inviate. Chi si è trovato a stretto contatto con un utente risultato positivo al virus, avvisandolo del potenziale rischio di essere stato contagiato. Grazie all'uso della tecnologia Bluetooth, questo avviene senza raccogliere dati sull'identità o la posizione dell'utente. Dopo la notifica, viene consigliato di contattare il medico di medicina generale per i dovuti approfondimenti. No, non l'ho scaricato e le dirò anche il motivo. Su quale base io mi carico, che non so se sono immune o meno, e gli altri? Io ci ho perso una madre. Adesso che sta colpendo la popolazione, anche giovane, si stanno un attimino svegliando. Ma non fanno niente. Fai sì che i test siano a un prezzo, se non lo vuoi fare tu comune, a un prezzo accessibile per la popolazione, affinché tutti ci monitoriamo, verifichiamo e ci iscriviamo all'app Immuni. Allora questo ha un senso, ma così io mi sento offesa come cittadina. Io do di scaricarla perché secondo me è un servizio utile. Poi logicamente se ognuno di noi non la scarica, logicamente non diventa così utile. Quindi non so. Gli sono già arrivate delle notifiche che l'hanno preoccupata? No, no, perché secondo me non avendola scaricata in tanti il servizio non è così attivo.